Bene, riprendiamo questa mattinata Francesca Teutonico, Head of Marketing di IBM. Francesca, intanto grazie, grazie perché questo posto che vedono quelli che sono qua in sala, ma vedono anche quelli in streaming, è roba vostra, ve la siete pensata voi, è un posto straordinario dove vedersi ed è la tecnologia e l'energia fatta in persona. Però spiegaci dove siamo. Grazie, intanto buongiorno a tutti e benvenuti a IBM Studios. Devo dire, Riccola... Hai sentito la zuppa, no? Sì, lo sento. Inizio frizzante della mattinata. Non potrei scegliere il luogo migliore per questa nuova edizione della ripartenza. Siamo qui nel cuore pulsante di Milano, in piazza Gai Aulenti, in quello che è uno spazio progettato dall'architetto Michele De Lucchi e che è diventato la casa dell'innovazione di IBM, ma di tutti i clienti, partner, che qui ogni giorno ospitiamo, come voi oggi, per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile del Paese. È un luogo fisico ma iconico. È soprattutto tecnologico. L'obiettivo qui è veramente creare insieme, ideare, sperimentare e sviluppare soluzioni nuove, innovative su quelle che sono le tecnologie emergenti o importanti oggi, il cloud, l'intelligenza artificiale, la cyber security, il quantum. Quindi un posto dove è possibile anche toccare con mano quelle che sono le potenzialità legate alla tecnologia e quindi innovare in tutti quelli che sono i settori industriali del Paese. Come lo facciamo? È un luogo in cui sicuramente ci avvaliamo di esperienza e competenze dei nostri consulenti ed esperti che qui lavorano insieme al nostro ecosistema allargato. lo facciamo in questo momento ancora più importante visto il momento storico che stiamo affrontando dove la recessione o il rallentamento economico all'orizzonte pensiamo veramente possa essere rallentata o addirittura evitata con investimenti in trasformazione che chiamiamo Digi Green. Qui Stefano Rebattoli, nostro amministratore delegato, poi sicuramente approfondirà. Grazie anche Stefano Rebattoli che in prima fila vedo anche Scaroni, vi vedo donato tanti amici che sono già arrivati per la prima tavola rotonda però il tema fondamentale, posso dirtelo adesso scusami se ti interrompo, organizzare, lo dico adesso per quelli che ci seguono a casa questo streaming fatto con Instagram sembrano tutte cose semplici ma avere una struttura che ti permette appena sei arrivato, in tre secondi di poterti collegare e andare online oltre le 500 persone che sono qua vi assicuro che avendolo sperimentato in altri posti è la difficoltà di farlo è veramente un plus pazzesco devo dire complimenti anche a questo per noi che facciamo questo mestiere ci è cambiata la vita poi posso dirvi una cosa l'altra cosa che ti devo dire adesso sarà una stupidaggine ma noi parliamo semplice come siete riusciti a organizzare le sedie dove siete seduti voi è una roba che io vorrei far vedere in televisione cioè non avete idea come riescono a mettere le sedie e come riescono a archiviarle in maniera intelligente ed è tutto questo Stefano è questo luogo comunque non pensate che mi abbia fatto lo sconto dico queste cose perché ci penso insomma no no bello scontore è assolutamente un piacere ospitare questo partare così importante qui come dicevo è un luogo di cui sicuramente percepirete ecco quella che è la vivacità e l'energia rimanendo un attimo un tema energia che sicuramente arriva dalle tecnologie e da quello che sicuramente ci caratterizza in più di cent'anni di storia come IBM ma soprattutto sulle competenze che pensiamo siano poi ciò che alimentano questo motore di trasformazione e che qui veramente IBM Studios si moltiplicano e si sviluppano facendo ecosistema quindi coinvolgendo attori diversi abbiamo parlato di clienti di partner ma qui ospitiamo e lavoriamo con istituzioni associazioni territoriali università centri di ricerca studenti sviluppatori ci sediamo intorno a un tavolo per generare idee strategie e trasformarle in prototipi e nuove progettualità molti degli esempi che citerà poi Stefano sono idee nate qui che poi si sono trasformate e sono cresciute grazie Francesca un super applauso veramente a Francesca che ci ha permesso e ci ha aiutato guardate dal primo momento in cui abbiamo progettato sembra banale ci ha aiutato a fare questa cosa grazie è stato un piacere grazie buona ripartenza a tutti grazie grazie Francesca allora Donato Coppi dove sei? vieni subito qua perché noi iniziamo sempre le nostre ripartenze con la storia di un imprenditore una piccola storia che è una grande storia come la tua siediti e riguarda l'energia abbiamo tempi televisivi molto veloci perciò Donato tu devi spiegare a quelli che stanno in questa stanza che non la sanno ma soprattutto a casa cosa fai nella vita guarda che poco tempo io ti incalzo cosa fai nella vita? io sono un produttore di vino in Puglia produco primitivo come vi è chiaro è tutta una mafia nostra qua comunque se si può dire oggi non lo so adesso non vorrei vabbè produci vino in Puglia vinaccio hai preso mai un tre bicchieri? qualche tre bicchieri lo abbiamo preso bravissimo te l'ho fatto dire c'è un vino pazzesco tre bicchieri in Puglia stupendo buonissimo non diciamo il nome dove in Puglia? dove? dove ti chiede? noi produciamo vino a Turi in provincia di Bari nel sud est barese sì però non è che ci può essere il dialogo col pubblico se no finiamo fra mezz'ora il punto è questo questo signore decide quanti anni fa oltre a produrre il vino è veramente un'azienda stupenda familiare lui il fratello è una bellissima azienda c'è qualche dipendente no? abbiamo 16 dipendenti in cantina e 30 nell'azienda agricola comunque c'è qualche dipendente decidi quanti anni fa? il primo impianto l'abbiamo costruito nel 2008 e il secondo nel 2010 2008 di fare un impianto fotovoltaico l'idea è della tua azienda che produce vino e non solo qual è l'idea? perché fa un impianto fotovoltaico? di renderci energeticamente autonomi no? è facile mi rendo c'erano degli incentivi mi rendo energicamente autonomo succede il casino che inizia a settembre del 2020 prima della guerra perché questa è un'altra cosa che non si capisce bene ma prima della guerra già alla fine del covid aumentano i prezzi dell'energia elettrica e tu sei dici beh Fico insomma in qualche modo era una gratificazione per un investimento lungimirante fatto in anni in cui non tutti credevano in questo genere di tecnologia e di fatto costruiamo il primo impianto ci rendiamo conto oggettivamente che aiutava nel nostro ciclo produttivo ma ci rendiamo altrettanto conto che di fatto non era sufficiente a soddisfare l'intero fabbisogno energetico della nostra cantina per cui cosa pensiamo all'epoca non esistevano gli accumulatori per cui l'unica soluzione era costruire all'interno della nostra cantina un secondo impianto l'energia venduta da questo secondo impianto serviva sostanzialmente a pagare le bollette che comunque dovevamo avere per la produzione del nostro vino quindi tu avevi uno scambio supposto cioè si produceva l'energia durante il giorno fa un altro impianto che produce energia che la vende al sistema a 6 centesimi mi sembra che fosse da me di quel periodo la vende al sistema con quello che ricava da quella roba là si paga la notte l'energia che evidentemente non produceva l'impianto fotovoltaico che qualcuno si dimentica che poi l'intermittenza delle rinnovabili esiste però chiaro no? io la semplifico perché la voglio rendere semplice quindi era perfetto il suo ragionamento quindi sono tranquillo avevamo in bilancio un perfetto bilanciamento energetico avevamo una voce di ricavo di 80 mila euro circa una voce di costo dell'acquisto energetico per la produzione di vino di 90 mila euro eravamo riusciti in tempi non sospetti insomma a fare quello che i governi di ieri e di oggi professano come la panacea la risoluzione del problema energetico crisi aumentano i prezzi dell'energia elettrica aumentano i prezzi dell'energia elettrica e tu te ne accordi con quel secondo impianto in cui vendi al gestore che succede succede che iniziamo a incassare delle somme più importanti ma che erano pari alle somme che di fatto pagavamo in bolletta perché chiaramente aumentando il prezzo unico nazionale nella vendita di energia aumentava anche in acquisto quindi avevamo un pareggio sostanzialmente quindi l'aumento del prezzo del ricavo dell'energia che tu facevi di giorno era compensato dall'aumento del costo della bolletta che avevi di notte perché aumentava e quindi eri sereno ma che succede? Il governo Draghi introduce con un nome che ormai è diventato per me un incubo un articolo di legge soprachiamato 15 bis che sostanzialmente introduce un price cap un tetto al prezzo dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici entrati in esercizio prima del 2013 pari a 50 euro per megawattora che è il prezzo medio degli ultimi dieci anni in sostanza ci è stato chiesto di mettere in rete energia a basso costo e poi comprarla per la produzione del nostro prodotto cioè il vino a dieci volte rispetto al prezzo di cessione perché chiaramente le compagnie energetiche devono vendere energia alle aziende per produrre al prezzo di mercato la cosa che però io non riesco a capire è da un punto di vista giornalistico questo non si chiama extra profitto questo si chiama extra ricavo cioè la differenza tra i 5 o 50 e quanto lo vendevi tu è ti ha tolto tutto il richiavo superiore della vendita dell'energia che tu hai fatto rispetto alla media degli ultimi 5 anni corretto? degli ultimi praticamente l'intervento vabbè da febbraio a 2022 tutti i ricavi in più che faceva tutti i ricavi in più rispetto alla media se li ha presi lo Stato ma quando si è presi lo Stato questi soldi è intervenuta una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia competente appunto per questa specifica materia che ha sostanzialmente emesso un dispositivo di sentenza bloccando di fatto la delibera rera che era la delibera attuativa della norma che era stata recepita poi cos'è accaduto che ieri ahimè il Consiglio di Stato pur non avendo letto le famose motivazioni del Tar ha annullato il dispositivo di sentenza se c'è qualche avvocato in sala ce n'è qualcuno saprà che non è rituale fare un appello senza neanche leggere le motivazioni la motivazione su cui si è passato il ricorso sono le esigenze di bilancio dello Stato quindi in pratica cari amici lo Stato può agire in qualsiasi maniera anche contro le imprese se per esigenze dello Stato io onestamente come disse il nostro comune amico Daniele Capezzone questa azienda la mia azienda è stata stuprata dallo Stato e vi dico perché perché noi abbiamo avuto degli extra costi energetici nel 2022 e non solo energetici perché con un'inflazione al 10% lascio immaginare quali sono oggi per un'azienda che produce le problematiche di mercato e lo Stato oggi ci chiede ad un'azienda che oggettivamente ha un fatturato di meno di 5 milioni di euro di restituire 350 mila euro e dobbiamo coprire un extra costo energetico di circa 400 quindi comprenderete il paradosso che si è venuto a creare cioè tu devi restituire 350 mila euro di ricavi e hai speso in più in bolletta 400 mila euro quindi avresti comunque avuto un aumento di costi di 50 mila euro ma ora invece ce l'hai di 400 perché devi restituire 350 ce l'ho di 700 700 perché il problema è questo e chiaramente io lancio un appello da questo palco ma quali appelli io lancio un appello nel senso che visto che il nuovo governo ha avuto questa eredità dal precedente come si dice sbagliare umano perseverare diabolico spero che qualcuno possa porre rimedio a questa questione il punto fondamentale che capite bene che secondo me bisogna sottolineare le esigenze di bilancio dello Stato valgono più delle esigenze di bilancio di questo imprenditore ma di tanti imprenditori perché la sua esigenza di bilancio è sottomessa forse giustamente perché dobbiamo fare tante miliardi di cose totalmente inutili alle esigenze di bilancio dello Stato però quando lui ridurrà la produzione cosa che mi ha raccontato ridurrà i suoi ricavi evidentemente poi quell'esigenza dello Stato se la prende qua perché gli introiti della sua azienda diminuiranno anche dal punto di vista fiscale si esce in perdita sostanzialmente è una cosa assurda ve la racconto all'inizio di questa nostra ripartenza perché poi il mercato è fatto di grandi cose che lei ci racconterà come tutte le grandi aziende però è fatto anche da questo piccolo tessuto al quale però un'ultima domanda cattiva la voglio fare il retropensiero quando si parla di fotovoltaico è che si è fatto un sacco di soldi con gli incentivi nel passato assolutamente io lo dico così perché io lo dico in maniera molto onesta abbiamo dovuto per fare questo investimento ipotecare la nostra cantina un mutuo che stiamo continuando a pagare quindi la teoria dei burocrati che ci sono dietro a queste norme che gli impianti ante 2013 siano stati già ammortizzati dall'azienda è facilmente smentibile dai mutui che stiamo ancora pagando perché una piccola e medimpresa che si vuole rendere energeticamente autonoma e lo ha fatto quando ricordo gli impianti fotovoltaici costavano minimo tre volte rispetto al costo odierno oggi si vede davvero si vede messi in una condizione davvero complessa grazie Donato grazie Nicola grazie grazie a voi tutti allora i titoli di queste tavole rotonde valgono zero però ve li leggo perché li ho fatti io in maniera un po' improvvisata aziende energivore risparmio intelligente quello che vale sono invece i nostri relatori e quindi li invito subito Luigi Ferraris amministratore delegato delle ferrovie dello Stato italiano sul palco che non vedo eh eh l'avete visto? poi invito ehm ehm Mario Abadessa senior managing director e country head di Ainz Italia Simone De Marchi amministratore delegato di Axpo ovunque 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 Paolo Scaroni che ho citato più volte al quale non posso chiedere due cose oggi vero? a caso sì a caso a caso Paolo Scaroni posso chiederti subito di questioni che riguardano De Pasquale no? non te le posso chiedere no dunque venendo qui oggi mi sono ripromesso di non parlare né di Milani Interieri né di Paolo Scaroni questi due temi non li tratterò neanche dello stadio eh? neanche dello stadio neanche dello stadio sì Tommaso Ferrario Tommaso partner di AMTF Avvocati Filippo Ghirelli Executive Chairman di Genera Group eccolo non mi dica che arrivate in ritardo il treno ma come l'hanno bloccata qui? ma siete matti veramente? ah le diamo questo così facciamo subito scusi eh qui cavolo all'ultimo allora lei non ha seguito niente per fortuna no perché il timore che si seguisse la zuppa di prima quindi con Ferrari ce la siamo cavata e quindi siccome è l'ultimo ad essere arrivato la devo mettere in difficoltà sarà il primo a cui faccio una domanda intanto il titolo è azienda energivore che a me risulta che lei consuma più di tutti quanti in Italia energia elettrica intanto se è vero questo e poi non si sente un po' responsabile ma che facciamo? non io personalmente non a casa sua è vastante noi siamo il primo consumatore d'Italia effettivamente consumiamo 6 teravattora cioè che vuol dire grosso modo il 2% del consumo nazionale del paese quindi siamo come si direbbe in gergo energivori ma direi molto energivori e in questo momento siamo al primo posto anche davanti a quelli che una volta erano davanti a noi cioè gli acciaieri per le ovvie ragioni perché abbiamo avuto una riduzione nel settore della produzione dell'acciaio quindi siamo i primi consumatori e quindi abbiamo una grande responsabilità ovviamente perché dobbiamo cercare di anche noi contribuire alla riduzione da una parte del costo in bolletta e dall'altra direi anche la sicurezza dell'approvvigionamento e noi abbiamo due punti secondo me che sono un vantaggio per poter contribuire in questa direzione da un lato abbiamo circa 30 milioni di metri quadrati di spazi disponibili non utilizzati dalla rete ferroviaria o non utilizzati da ANAS per l'utilizzo dell'auto eccetera e abbiamo la possibilità anche di essere vicini a quella che è la rete di trasmissione perché per poter produrre energie rinnovabili bisogna avere i siti disponibili e bisogna essere vicini alle reti per potersi connettersi entrambe le cose vengono soddisfatte per una buona componente da parte nostra da lì è nata quindi l'idea di fare un inventario stretto su questi 30 milioni di metri quadrati darci un obiettivo di produrre in autonomia circa il 40% dei nostri consumi 40% di questi noi diventeremo autoproduttori con una quota di circa 2000 megawatt di pianti solari fotovoltaici qualche piccolo eolico aggiungo anche qualche impianto di stoccaggio di energia lungo la linea il che ci consentirà di diventare uno dei principali operatori diciamo di produzione di energia rinnovabile ma tutto finalizzato per i nostri consumi mi faccia capire una cosa ma se lei si vuole mettere un impianto fotovoltaico poi c'è Ferrario che gli piacerebbe moltissimo questa situazione vuole mettere un impianto fotovoltaico su un suo tetto una sua ha detto 30 milioni quanti sono i milioni di metri quadrati 30 milioni ma lei deve passare tutti i liter no perché sono sono in casa nostra e questo c'è stato un decreto emesso dal precedente governo che ci consente di utilizzare questi spazi avendo noi proprietà o in condivisione con Terna di sottostazioni di trasformazione noi colleghiamo un cavo a questo impianto che è di prossimità e quindi ovviamente bisogna interagire con Terna per programmare poi l'allaccio e l'utilizzo per questioni di sicurezza e di stabilità della rete ma da un punto di vista burocratico noi possiamo essere molto più veloci sono già aree dedicate quanto costa sta roba per un'azienda come la vostra? dipende ovviamente dal prezzo del pannello e comunque direi grosso modo 2000 megawatt per noi si può arrivare tra un miliardo e mezzo e un miliardo e sei di euro ma questa è una cosa che vedremo fra dieci anni? no tra cinque o sei anni già quest'anno nel 2023 abbiamo già lanciato una gara il 4 gennaio per 120 megawatt 130 per la precisione che riguardano siti che vanno da una capacità massima intorno ai 4.95 megawatt che sono già numeri importanti per siti di produzione di energia solare e questo ci consentirà a fine anno di approvvigionarci e poterci collegare quindi a partire dal 2024 cominceremo a generare energia per noi già oggi questo accade ma in misura minore utilizzando quelli che sono i tetti di alcune aree alcune officine dove già produciamo energia rinnovabile qui invece stiamo parlando proprio di spazi a terra quindi non tetti ma stiamo parlando di aree che non sono più funzionali al trasporto di passeggeri o al trasporto delle merci che sono in prossimità come dicevo prima di questa linea di alta tensione perché ricordiamoci che comunque il treno va sì su binari ma sopra ci sono dei fili elettrici quindi il nostro combustibile principale è l'elettricità alla fine quindi questo è l'elemento da cui siamo partiti e quindi ferrovia ha un'alta componente di elettricità e necessariamente di avere delle competenze per fare anche dell'energy management di tutto questo quello su cui stiamo investendo e lavorando a maggior ragione oggi che il costo in bolletta per gli italiani per noi è molto alto sono un liberista estremo e lo sanno quelli che mi seguono il vantaggio aziendale nell'avere un'energia così prodotta esiste dal punto di vista economico lascia perdere le cose straordinarie dell'ambiente di Greta eccetera ma io sto parlando del bilancio suo lei insomma conosce bene le questioni di nel nostro consolidato c'è un effetto positivo l'effetto principale quindi c'è bot online l'investimento ha un senso l'effetto principale però ce l'ha chi paga la bolletta elettrica perché una parte di questo costo rientra nei cosiddetti oneri di sistema quindi noi abbiamo una componente che va nel nostro conto economico ma il grosso il beneficio va a beneficio della collettività perché abbassiamo il costo e stabiliamo il prezzo Scaroni io ho bisogno di lei per inquadrare il sistema poi facciamo perché qui è riduzione in realtà lui non sta riducendo i consumi sta sostituendo una fonte di energia a me va benissimo io vorrei consumare il più possibile perché per me un paese che consuma vuol dire che si arricchisce il PIL e i consumi elettrici vanno insieme però non c'è soltanto ferrovie c'è un sistema paese che ha un po' di gas c'ha ancora un po' di carbone cioè qual è il mix qual è il futuro secondo lei siccome io e lei ci siamo visti e sentiti in tempi non sospetti mi ha detto poi cose che sono accadute veramente un pezzo farà così ma è l'Italia come deve comportarsi per affrontare il tema energetico ultima domanda gliela faccio dopo intanto andiamo su questa no dunque non vorrei essere un po' troppo tenerevi una conferenza sul tema no no ma noi siamo semplici però voglio soltanto dire questo intanto memorizzatevi un fatto l'energia elettrica rappresenta il 20% dei nostri consumi energetici quindi ogni volta che parliamo di sostituire con pannelli solari l'energia elettrica stiamo sempre parlando del 20% quindi immaginiamo che con uno sforzo titanico il nostro paese che oggi produce energia elettrica circa 35% da fonti rinnovabili dica lo faccio tutto da fonti rinnovabili siamo comunque al 20% oggi allora questo pone un problema di dire ma come facciamo sostituire l'altro 80% e questo è un tema difficile per l'Italia ma per tutti i paesi che vogliono affrontare la transizione energetica allora gli sforzi ci sono certamente il problema che abbiamo davanti a noi oggi lo semplifico è questo la guerra in Ucraina Ucraina-Russia ci ha costretto noi europei non noi italiani ad abbandonare il nostro Texas perché il nostro Texas era la Russia non hanno un coraggio di dirlo però molti oggi quando dico costretti a abbandonare intendo dire l'abbiamo fatto volontariamente e abbiamo fatto bene a farlo però certamente dire abbiamo il nostro Texas che fornisce gas petrolio diesel in questo momento il vero problema è il diesel avrete notato che il diesel costa più della benzina no? l'avete notato? beh è il risultato di questo allora abbandonare il Texas per noi è un problema ciclopico che dobbiamo affrontare e lo stiamo affrontando godendo e qui siamo stati fortunati di un clima che ci ha aiutato enormemente se no avremmo potuto avere restrizioni già quest'inverno quest'inverno è visto che voi sapete no lo dico perché guardavo le previsioni del tempo sapete che avremmo davanti a noi dieci giorni di freddo no? in Italia e l'abbiamo perché viene del vento dal nord est che tecnicamente chiamiamo Burian si chiama Burian allora noi gente che si occupa di gas e di riscaldamento siamo sempre preoccupatissimi del Burian perché quando c'è questo vento freddo i consumi crescono moltissimo e dobbiamo avere abbastanza gas per riscaldare le nostre case e questo è il vero problema che abbiamo davanti a noi no vi rassicuro per dirvi che grazie al caldo che ha fatto negli ultimi due mesi state tranquilli ma vi assicuro avesse fatto freddo negli ultimi due mesi questo Burian che stiamo in cui stiamo entrando oggi avrebbe visto delle restrizioni al consumo di gas esiste esiste nello scacchiere geopolitico continente Europa continente Asia per semplificare continente America non dico vincitore qualcuno che oggi sta godendo di più dunque allora il continente America è un vincitorissimo perché sta vincendo oggi perché fanno una paccata di soldi esportandoci il gas liquido e va bene pazienza ma quello che mi preoccupa quando guardo a lungo termine è che il nostro approvvigionamento di gas verrà da lì e questo vorrà dire che il gas e l'energia elettrica in Europa costerà tra il doppio e il triplo di quanto costa negli Stati Uniti questo per la semplice ragione che usando il gas americano noi dobbiamo prenderlo liquefarlo caricarlo su una nave portarlo qui rigassificarlo e tutto questo porta il costo più o meno a raddoppiare quindi dobbiamo abituarci a vivere in un continente e in Italia naturalmente in cui i costi energetici saranno nel lungo termine io direi dico scherzando forever poi la parola forever non esiste ma insomma per molti anni tra il doppio e il triplo ma loro ti dicono c'è il fotovoltaico ci sono le energie rinnovabili quando io dico questa cosa mi dico ma non hai capito perché se ci fossero rinnovabili non sarebbe così il suo bilancio sarà un po' migliore penso nei prossimi anni noi dobbiamo fare uno sforzo poi ritorniamo perché è un po' più articolato di così no no ma poi se lo appunti no dicevo noi dobbiamo fare uno sforzo titanico sulle rinnovabili io non sto dicendo cioè i due temi vanno insieme non è che sono contradditori dico soltanto che prima che le rinnovabili mangino una fetta sostanziale dei nostri consumi energetici di quell'ottanta per cento che non è elettricità beh alcuni di noi in questa sala saranno morti temo a cominciare da me quindi voglio dire stiamo parlando di una cosa a vent'anni trent'anni cioè non stiamo parlando di una cosa per il 2030 o per il 2033 35 quindi questo è un po' come la vedo io bene ci possono fare De Marchi voi siete il primo loro sono il primo produttore in Svizzera mi corregga se sbaglio il quarto in Italia ma voi in Svizzera avete rinnovabili non solo in Svizzera rinnovabili fossili e nucleare mi sono dimenticato idroelettrico fossili in Italia idroelettrico e nucleare in Svizzera che sono più furbi loro? motivi storici vabbè allora quello che io le voglio chiedere perché noi ci siamo sentiti anche con lei nei momenti caldi lei conosce il mercato soprattutto il trading cioè quello ogni giorno in cui si fanno i prezzi mi corregga se sbaglio siete i tre più grossi operatori nel trading ci dobbiamo aspettare intanto cioè lo scenario che fa Scaroni è uno scenario che lei vede già sul mercato e altra cosa lei mi spieghi allora perché 345 chi ha ad agosto in cui faceva un caldo è ovvio che la risposta un po' la so non sono così cretino però bisogna spiegarlo secondo me è una cosa importante far capire che cavolata che abbiamo fatto siccome io penso che ti do del tunicolo sì lo so faccio fatica no facciamo fin ok scusa parlare di gas dopo che ha parlato Scaroni cioè oggettivamente io ti ringrazio vorrei alzare e andarmene perché qua voglio dire ecco le azioni magistrali sarebbe vabbè no che cosa è successo e che cosa ci dobbiamo aspettare e insomma cosa vediamo ti faccio una battuta perché è uscito ieri sui giornali non l'avete parlato voi oggi ma c'è stato il vice premier tedesco che ha detto la colpa dei prezzi di agosto è nostra ti giuro era ieri a Davos ha dichiarato la colpa dei prezzi di agosto è nostra non nostra se per me non è colpa dei tedeschi è colpa ti ricordi che ti avevo detto il principale speculatore del gas è la commissione europea sentitela bene sta cosa io l'adoro perché dice le cose come le potrei dire io nonostante lui sia un amministratore delegato spiegala bene sta roba non l'ho detta io c'è la dichiarazione del vice premier tedesco a me me l'hai detta quando non dicevo io l'ho detto a me bravo il maggior speculatore sui prezzi del gas è la commissione europea perché perché ha fatto una cosa giusta come dice è stata obbligata a mettere il gas in stoccaggio per evitare giustamente quello che il dottor Scalori sapeva che se ci fosse stato freddo noi oggi ci saremmo trovati con i gas cioè con le nostre abitazioni a 16 gradi quindi giustamente il politico deve evitare questo ma nel momento in cui c'è un mercato tutti quei mesi se voi vi ricordate i mercati non funzionano gli speculatori il TTF non funziona il TTF è poco liquido io ho vent'anni che faccio questo lavoro ho visto pochi mercati più liquidi del TTF si parlava del mercato asiatico il mercato asiatico fa un prezzo al giorno cioè per me follie ma giustamente nel momento in cui la politica decide ok compriamo tutto quello che c'è è come fare un opo ostile su un'azione cioè dove vanno i prezzi io di azione che dice Scaroni sei d'accordo? assolutamente d'accordissimo non potrei e lui qui sta facendo una lezione magistrale no 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 assolutamente come con le mascherine come con le mascherine guarda eh che dici? come con le mascherine eh? è uguale alle mascherine si si no si si vuoi spiegare la cosa della mascherina che mi mette quasi buon umore mi approvvigiono di qualsiasi cosa a qualsiasi prezzo esatto e poi è stato dato mandato agli operatori a Snamret e Gas all'operatore tedesco quant'altro di comprare gas non lo fanno di mestiere e quindi anche muoversi posso aggiungere solo in ordine sparso? si si cioè l'Europa invece di fare un'operazione di salvataggio dell'Europa lasciate ogni paese a fare la sua cioè andate tutti veloci a prendervi tutto quello accattate tutto quello che potete senza che ci sia un acquirente unico famoso diciamo che andava coordinato l'operazione e probabilmente dati dei mandati in maniera corretta poi ripeto a fronte dei 340 l'Europa ha restituito soldi all'impresa attraverso delle imposte tutto quello che vuole cosa sta succedendo oggi perché se no eh chi ricordi a novembre ha detto il prezzo spot è 30 ma cosa è successo? è successo che in quel momento faceva caldo di quel gas nessuno sapeva cosa farsene se vi ricordate esportavamo il gas verso l'Austria la notizia estremamente positiva che vediamo oggi è che il prezzo è sceso ma non è solo sceso oggi cioè il prezzo che le aziende o noi a casa compriamo oggi per domani ma stanno vedendo dei prezzi molto più bassi e arriviamo a quello che giustamente a termine per l'anno prossimo oggi un'impresa può comprare gas per il 2024 pagandolo solo solo 70 60 certo rispetto ai 200 è molto meglio è molto meglio ma rispetto agli Stati Uniti che è che the winner is US paga sempre due volte tre volte cioè il 60 70 che tu compri quant'è 20 20 20 25 e noi 60 ok ma che continua a fare il trader di gas Scaroni no ma leggo queste cose le leggo 20 25 contro 60 60 attenzione un mese prima di Natale stavamo parlando di 150 160 170 sempre 20 moltiplichiamolo per due vuol dire l'energia elettrica 350 400 oggi l'energia sta sotto i 200 la crisi dei prezzi è databile l'inizio della salita dei prezzi è i primi mesi del 2021 in cui l'energia su come dire un piattone su un anno si pagava 50 oggi siamo a 100 allora questa roba del price cap su cui ho fatto con la zuppa voi lo sapete non serve a niente ho fatto ah bravo sentite perché io sapete quando dico che non serviva una ceppa il price cap dicevo questa è una roba dei politici destra sinistra tutti quanti è come Manzoni no quando diceva vi ricordate no il tredicesimo capitolo quando diceva che c'era un problema col pane cosa diceva il governatore non era manco il governatore per lei diceva beh mettiamo un tetto al prezzo del pane che c'è questa era la soluzione e io da quello ho capito non è che ho letto Friedman per capirlo che è difficile il prezzo del gas imporlo ma lui me lo spiega meglio quindi ve lo spiega a voi per favore glielo puoi dire poi Scaroni è più diplomatico ma secondo me la pensa come anzi l'ha scritto sul foglio in realtà no ma io avevo letto un fantastico articolo e l'avevi letto il prezzo sì 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 assolutamente infatti poi quando leggo così dico allora basta omaggio Scaroni basta omaggio Scaroni che è già di buon umore oggi per ieri sera no esatto non serve a nulla perché innanzitutto non è mai stato e non è a tutt'oggi un vero price cap perché comunque dipende dal prezzo asiatico dopodiché ho fatto una cosa ho chiesto ai ragazzi e alle ragazze di fare un'analisi back test hanno detto ok ma se questo questo benedetto cap ci fosse stato già da sempre che cosa avremmo ottenuto no perché grande successo della politica allora c'è stata un'analisi che questo avrebbe impattato per meno di un mese in cui i prezzi anziché avere una media tipo ora te lo dico di 300 sarebbero arrivati a 240 perché il prezzo asiatico era comunque molto alto cioè tutto questo per dire che la politica non deve inventarsi delle cose secondo me fuori il senso perché se c'è una carenza di domande se c'è una carenza di offerta i prezzi salvi punto se come è stato fatto l'Europa si invece investe in l'altra cosa fondamentale facciamo finta di non vedere è che i prezzi sono scesi perché Finlandia 1 Germania 2 Olanda 4 con questo hanno fatto rigassificatori floating che sono già in funzione la Germania ne aggiunge un quinto entro fine anno della dimensione di Livorno però lui ti dice che comunque il prezzo del gas liquefatto è sempre verissimo però sei d'accordo che è meglio pagare 70 rispetto a 250 e non essere schiavi della Russia perché la Russia nel momento il Texas nel momento di massimo importazione verso l'Europa importava 500 milioni giorno oggi importa 40 milioni giorno quindi meno del 10% e nonostante questo noi abbiamo il gas e lo paghiamo un prezzo civile 300 non sono civili dopodiché è un grosso problema se noi paghiamo il gas tre volte agli Stati Uniti cosa voleva dire Ferraris prima perché l'ho interrotta su cos'è che stava poi dopo arrivo ovviamente facciamo tutti però l'ho visto che stava aggiungendo qualche cosa che non la convinceva no no io volevo far casino chiaro no questo è chiaro capito no no un punto che volevo aggiungere rispetto al commento sempre da Toscaroni è che comunque portare i passeggeri su treno significa ridurre i consumi diciamo oggi delle auto quindi è parte della soluzione le merci che oggi viaggiano su gomma e in futuro se non faremo nulla ci troveremo un milione di mezzi pesanti sulle strade rappresentano un'altra fonte di consumo importante fin tanto che non abbiamo elettrificato anche il settore delle auto poi alla fine ritorniamo sempre al tema di come andiamo a produrre l'energia però certamente più ci muoviamo utilizzando il vettore elettrico penso ai trasporti più riduciamo complessivamente ma lei è in una situazione molto particolare io quando lei mi ha detto questa cosa ho pensato a Messina Denaro io lo dico francamente stamattina lei non c'era non per lei perché stamattina con Cruciani abbiamo detto ma quale ho capito bravi avete preso Messina Denaro ma 30 anni ci avete messo adesso che ci penso lei mi ha fatto un piano non so da quanto sia da quanto è che le ferrovie lei un anno e mezzo insomma in un anno lei mi ha fatto un piano e mi ha spiegato guarda io ho 40 milioni di metri quadri e me li riempio senza neanche tutto quel casino di autorizzazioni ci siamo arrivati o forse prima costavano un po' cari i pannelli io credo che prima il prezzo del gas fosse molto basso l'energia non c'era la convenzione e non c'era lo stimolo a farlo ma non è soltanto un fatto di ferrovie perché c'è anche un elemento di discontinuità che c'è stato perché comunque oggi il tema della sicurezza dell'approvvigionamento incide anche nel ragionamento completo c'è il prezzo e c'è la sicurezza dell'approvvigionamento poi noi abbiamo guardato la disponibilità di spazi che erano inutilizzati abbiamo tantissime aree ma lei c'è stato un momento in cui non era così sicuro dell'approvvigionamento non ci sono giornalisti non si preoccupi io credo che abbiamo rischiato non si può non si può rinnegare che abbiamo rischiato complessivamente avete rischiato? non noi no no il sistema nel suo complesso ha dei momenti Ferrari due punti abbiamo rischiato che i treni noi non rischiamo da questo punto di vista perché chiaramente siamo dei consumatori diciamo gestiamo un servizio strategico nazionale quindi è fuori discussione questo però il punto è avendo degli spazi perché da me è partita l'esercizio di produrre energia rinnovabile è partito dalla constatazione di avere delle disponibilità di spazi non utilizzati dopodiché rispetto a quello che è successo è diventato quasi come dire una necessità o comunque un contributo a quello che è il tema della sicurezza dell'approvvigionamento Direlli Genera Group è partecipato da un grande fondo insomma vi occupate di questi temi dell'energia eccetera che cosa si porta a casa da questo ragionamento fatto e qual è il suo punto di vista su il caro bolletto e la possibilità insomma perché parliamo anche delle famiglie insomma quanto questo ci può essere utile poi alla fine come sistema paese allora innanzitutto vorrei fare un punto sul tema delle rinnovabili perché poi questo è un elemento centrale no le rinnovabili non si devono intendere solamente come quelle che producono l'energia elettrica noi siamo un paese anche a forte vocazione agricola e ad esempio c'è tutto il tema del biogas che può essere immesso in rete il biometano e su questo stiamo attendendo fra l'altro a giorni aspetta un secolo sentite bene voi c'è un po' di ok c'è un decreto che è imminente in questo momento che regolverà anche questo quindi il biometano è un elemento che sostituisce quell'80% non tutto evidentemente ma una buona parte c'è anche un altro tema che sono appunto le produzioni più localistiche oggi si parla moltissimo di comunità energetiche noi ne abbiamo depositato più o meno 120 da fare in Italia le comunità energetiche hanno un funzionamento appunto di rendere creare dei piccoli Texas però verdi mettiamola così e cioè comunità che sono omogenee quindi di territorio hanno come centralità l'ente pubblico il quale grazie all'intervento privato tramite il partenariato pubblico privato riesce a installare banalmente pannelli fotovoltaici o centrali idro magari minidro nelle vicinanze del comune si garantisce quindi una produttività una produzione di energia questa energia è messa a disposizione della comunità quindi la comunità si può agganciare a questa rete virtuale quindi non si devono fare altri investimenti a livello ma esistono già oggi? ne esiste qualcuna non ne abbiamo fatta già qualcuna è un processo in itiner perché ancora ci devono essere dei decreti che rendono viabili e fattibili oggi sono molto limitate dal fatto che si possono fare potenze molto piccole quando verrà sbloccata questa cosa a livello nazionale si assisterà a dei fenomeni di concentrazione quindi ma mi faccia capire però io voglio essere pratico lei mi dice che io con la mia casa vicino con il negozio vicino cioè ci possiamo mettere in 4-5 e fare una roba di questo tipo semplifico perché privatamente è più complicato la trazione diciamo del partenato pubblico privato faccio un esempio banale il comune di Alessandria dice di mettere i pannelli fotovoltaici sul suo tetto si alimenta se stessa e alimenta anche le case vicine ok dopo di che si agganciano magari delle industrie si agganciano magari dei produttori di vino e quant'altro che possono essere prosumer quindi producono e consumano e questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento di autosostenibilità per cui a quel punto si calmiano i prezzi fortissimamente dell'energia elettrica in questo caso ma anche del gas nel caso in cui si adeguino e si agganciano delle aziende agricole per esempio e a quel punto hai dei sistemi che sono indipendenti addirittura l'ARERA che è l'autorità che abbiamo citato più volte prima sta immaginando che ci possono essere delle saldature di queste comunità vicine che possono diventare una grande tutto su rinnovabili questo? tutto da organizzatore di rinnovabili qual è la migliore rinnovabile per lei? le rinnovabili in realtà sono una evoluzione continuativa il sole è sicuramente un elemento interessantissimo ripeto il biogas e il biometano sono degli elementi fondamentali abbiamo tantissima ricchezza di geotermia che non utilizziamo in questo paese ed è difficile sfruttare in Italia? non è difficile semplicemente basta incentivare gli imprenditori a farlo banalmente il problema nostro è che abbiamo una valanga di energia che è esploitabile che è producibile nel nostro paese ma il grande problema sono le autorizzazioni se tu per le autorizzazioni ci metti due anni ti do un anno per prenderle dopodiché ti scade il decreto devi rinnovarlo devi cambiare il progetto ogni volta è un caos Tommaso Ferrario l'aspetto legale poi arriva da Badessa perché ci farà se dice soltanto un quarto di quello che mi ha detto al telefono sarà divertente per i commensali della Zuppa ma allora il problema autorizzativo tu hai accanto un signore che ha un po' risolto i problemi diciamo anche se ne ha avuto i ventani però lui è facilitato perché lui ha le aree delle ferrovie lui è facilitato però la generalità degli altri operatori non ha questa fortuna ma qual è la difficoltà quanto è ancora importante la difficoltà forse che tu ti occupi dal punto di vista amministrativo allora c'è c'è difficoltà ma diciamo che è una un componente di vari elementi allora prima di tutto noi apparteniamo all'Unione Europea e quindi c'è un obiettivo di decarbonizzazione molto ambizioso perché dobbiamo aver installato entro il 2030 70.000 megawatt di energia a fonti rinnovabili allora per darti un'idea che vuol dire 70.000 megawatt allora se questi fossero fatti tutti di fotovoltaico che non sarà ma non ci andremo tanto distanti perché in Italia di vento se ne fa poco di eolico non se ne fa tanto le biomasse si fanno ma sono più diciamo una componente accessoria dell'azienda agricola quindi diciamo che di questi 70.000 ne faremo 55 circa mila di fotovoltaico allora questo vuol dire che noi avremo circa vuoto per pieno 55 60.000 ettari di fotovoltaico da installare di qui al 2030 che vuol dire uno spazio più o meno circa di 550 600 650 chilometri quadrati di fotovoltaico questo per darti un'idea diciamo della latitudine solo per rispettare l'obiettivo allora a Milano sono 150 chilometri quadrati e quante Milano quindi quante Milano stanno 6 Milani 5 Milano quindi è tanta roba da mettere in piedi ok vabbè ma c'è stanna aspetta aspetta noi ma tu stai parlando solo del fotovoltaico poi i 55.000 però se noi ci arriviamo a 55 con il fotovoltaico gli altri 15 li facciamo un po' con le biomasse un po' con l'eolico l'eolico in Italia non lo fai dappertutto però perché tu l'eolico puoi farlo vicino alle montagne sostanzialmente ma le montagne sono in tendenza ti dice no perché vanno preservate allora c'è un problema di dove andare a metterli questi impianti allora tu calcola che in Italia noi oggi più o meno la nostra velocità autorizzativa è di circa 1000 megawatt all'anno dobbiamo farne 70.000 entro il 2030 questa è la situazione dove stiamo allora vista così uno dice siamo persi però non è vero che proprio siamo persi guarda che Ferrari sta dicendo che attenzione attenzione allora è stato fatto un importante passo avanti nel 2022 perché c'è un signore a Roma che si chiama Similiano Telli che è una persona particolarmente in gamba che è il presidente del comitato via vaste PNRR che si è rimboccato le maniche ed è riuscito in un anno a far buttare fuori a questo comitato via circa 7.500 pareri positivi della via allora per chi non sa cosa è la via noi purtroppo in Italia per realizzare questi grossi impianti non l'impiantino che può servire a noi accessori alle nostre case alle nostre aziende agricole per cercare di sopperire un po' al consumo energetico ma diciamo gli impianti che interessano a questi signori e a quelli che verranno dopo sono di tagli 10, 20, 30, 50 megawatt allora lì c'è ciccia allora per andare a realizzare questi impianti qua tu devi fare un doppio passaggio devi passare prima dalla cosiddetta valutazione di fatto ambientale che è quella che fate è che sta facendo bene e lui addirittura pensa di raddoppiare al prossimo anno perché ha assunto il doppio dei componenti del suo ufficio via e ha modernato le strutture informatiche ha fatto gli investimenti importanti però il problema che ne verrà fuori è che una volta che questi insieme di autorizzazioni ambientali verranno pronte poi la palla passerà nuovamente a chi? alle regioni e allora lì il rischio il rischio è che riparta da zero la macchina burocratica e che ci si perda un po' di quell'abbrivio che faticosamente siamo riusciti a mettere insieme a livello centrale no? e qui purtroppo uno dei sì però Tommaso tu mi hai detto una cosa fondamentale tu mi hai detto che comunque anche se avessimo un fenomeno alla via un fenomeno all'autorizzazione tutti gli investimenti i soldi possibili noi dobbiamo fare 6 Milano come dimensioni di metri quadri per poter e quello è e quello è vai 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 Girelli ma 6 Milano ragazzi 6 Milano se tu le fai diffuso sul territorio e poi scusami è il minimo se tu fai le comunità energetiche diffuse sul territorio le 6 Milano le superi anche volendo cioè se sono diffuse su tutto quanto il territorio italiano lui dice se tu la prendi concentrata sembra una cosa enorme lui fa non a Milano però fa una bella cittadina nel suo eh? sì sì ma è sparsa su tutta Italia perché noi andiamo da nord a sud abbiamo identificato dei siti che sono dismessi quindi sono aree non utilizzate ma ora che c'è in questi siti mi scusi Ferrari se in quelli dove le mette sono ex capannoni dove si ricorravano treni che non vengono più utilizzati aree dove c'erano dei binari che sono stati dismessi aree quindi di stoccaggio che non vengono più utilizzati insomma sono tanti spazi che sparsi se uno va col treno ci fa caso magari vicino alle stazioni in prossimità ci sono tante aree e quelle non sono che non sono utilizzate spesso purtroppo vengono anche sono state anche abbandonate quindi vanno recuperate vorrei finire scusami Tommaso e secondo me tanto facciamo un altro giro avrà buone chance di riuscita perché dalla mia esperienza nonostante tutto quello che è ora dove è andata bene questa avventura autorizzativa è stato quando ci sono stati pochi interlocutori mi spiego se noi andiamo in Puglia ha ragione a noi molto cara per diversi motivi vediamo che c'è una grande installazione di impianti fotovoltaici poi che questi siano funzionali che siano effettivamente tutti utili questo è un altro paio di maniche perché ci sono tanti piccoli che hanno comportato anche delle problematiche alla distribuzione quindi è nella distribuzione ho dovuto fare dei salti mortali per andare a collegarli ma se ne è riusciti a fare tanti perché c'è un'amministrazione comunale come soggetto autorizzatore le ferrovie possono avere un'autorizzazione che non passa per la conferenza di servizi dove ci sta la regione l'ARPA la sovrintendenza ma scusami la regione non vuol dire la regione la regione ti manda tre diversi dipartimenti perché ti manda settore energia settore ambiente settore politica agricola quindi tu ti trovi sti tavoli dove non sai chi guardare in faccia perché ci sono venti persone e non riesci a portare a casa il risultato velocemente adesso questo signore ha costruito l'azienda l'AINS ha fatto un pezzo di queste cose in cui questo bellissimo landscape perché non so se tutti sono milanesi quelli che sono qua della Zuppa ma è un posto veramente impressionante quando arrivi in una città che rispetto ad altre è cambiata ed è il responsabile della direttiva comunitaria per la quale le vostre case dovranno essere immediatamente in aree in come si dice in classe energetica sto scherzando perché ne abbiamo parlato insieme e gli ho detto ma com'è questa direttiva comunitaria che ci obbliga tutti quanti a dover fare l'avrete seguita entro i prossimi anni 2030 dovremmo avere e lui mi ha dato un punto di vista posto che costruisce nuove case nuovi quartieri e nuove situazioni abitative molto interessante che vorrei che ci riportassi cioè il fatto che noi potremmo consumare di meno nelle nostre case le case consumano effettivamente molta energia ma forse non c'è un approccio comunitario io non ho sentito di sciocchezze sulla divisione immobiliare però come l'ultima della comunità europea batte tutte perché va esattamente nell'opposto dell'obiettivo di avere una sostenibilità energetica che deve essere sostenibile cioè noi dobbiamo fanno bene tutti i capannoni assolutamente però la sostenibilità deve essere sostenibile altrimenti noi abbiamo una sostenibilità energetica che non consumiamo ma non è sostenibile né economicamente né dal mio punto di vista neanche socialmente quindi la sostenibilità energetica non si raggiunge con il bollino imposto da un ente governativo né con delle regole che impongono di essere sostenibile cioè lei dice quello che lui mi ha detto è che continua a ripetere non è il bollino che ci rende sostenibile oggi io sono convinto che ci sono molte persone che prendono il treno per andare a Roma anziché andare a Milano perché il treno inquina meno dell'aereo oggi c'è una cultura soprattutto nell'abitare noi stiamo costruendo 5.000 appartamenti tutti in affitto a Milano e 5.000 posti letto io sono certo che lo sbocco commerciale per chi ha un prodotto noi lo chiamiamo net zero carbon è più vincente rispetto a chi fa un prodotto antico posso anche dire che a me chi poi opera come sempre i discorsi sono lontano poi dalla parte industriale è molto naif quello di cui noi parliamo cioè perché è scontato che chiunque fa un insediamento immobiliare sia che non inquini ci mancherebbe altro è normale che non inquini anche perché io i miei prodotti noi stiamo facendo la Torre Velasca a Milano che è di nostra proprietà è normale che ristrutturandola deve essere efficiente energeticamente altrimenti non ci sarà un affittuario non ci sarà nessuno che la prenda in affitto non ci sarà un compratore IBM non occuperà mai uno spazio che inquina e Allianz o Unipol che è qui vicino non comprerà mai un edificio che non è energeticamente e sul vecchio parco immobiliare se lo posso definire così che cosa si può inventare? ma il vecchio parco più che dare le regole dobbiamo dare degli incentivi e noi non chiediamo soldi la comunità immobiliare noi non chiediamo soldi chiediamo soltanto una semplificazione normativa perché la verità è che oggi adeguare l'attuale patrimonio è anti-economico è anti-economico cioè? cioè che sostanzialmente soltanto con il tempo che si io dico perde altri dicono ci si occupa per essere compliant con tutti i layer normativi solo quello in un anno dove adesso gli interessi delle banche sono aumentati già quello ha sostanzialmente perso l'investimento quindi è questa la verità poi è chiaro che la sostenibilità energetica è credo oggi la cosa più di moda di cui parlare e quindi parlano tutti e tutti hanno un'opinione e va benissimo io sono certo che se noi chiedessimo a tutti voi a ognuno di voi che cos'è la sostenibilità ambientale o che cos'è i criteri ESG che sono una cosa molto trendy ognuno di voi ha una risposta diversa e anche queste persone che sono e questo non lo risolvi con un'imposizione normativa ma come sempre nel business lo risolvi adeguando la domanda all'offerta la domanda vuole case che non inquinano case che sono energeticamente sostenibili e quindi è l'imposizione costa molto di più fare una casa energeticamente molto efficiente oggi? Allora in termini effettivi la risposta di oggi è sì ma io vi dico che se noi potessimo risparmiare oggi per avere un permesso di costruire nella città più efficiente che è Milano ci vogliono 30 mesi se noi ne potessimo risparmiare 15 per le case sostenibili adesso sto parlando in maniera colloquiale l'investimento sarebbe già ripagato e si può fare perché in altri paesi per esempio si sono fatte delle task force amministrative dove c'è l'ufficio di urbanistica e va bene poi c'è un altro ufficio dove tutte le pratiche dove si mette il timbro vengono c'è un outsourcing fuori e quello si occupa solo di chi fa quindi è giusto che chi investe in una politica energetica sostenibile abbia una tempistica abbreviata perché ha un'incombenza economica in più e quindi ha un risparmio e io credo anche che sia molto strano che noi lo dico in maniera provocatoria chiaramente continuiamo a parlare solo di sostenibilità energetica io non credo che la nostra scommessa io sono papà di due bambini e quindi mi faccio delle domande che cosa lascerò a loro e tutti voi avete le vostre obbligazioni ma io credo che oggi noi dobbiamo parlare di sostenibilità sociale perché quello che noi stiamo andando incontro è un mondo che è sostenibile energeticamente per i ricchi perché sono convinto che in via Monti o all'arco della pace o in via Brera le case sono tutte sostenibili ma in periferia dove abitano i tre quarti delle persone siamo sicuri che sono tutte sostenibili e quindi noi dobbiamo assolutamente lavorare come comunità per rendere questa sostenibilità energetica sostenibile veramente energeticamente ma soprattutto socialmente altrimenti avremo delle città come ci sono già degli esempi in Europa come Londra e Parigi che sono perdenti nonostante dieci anni fa erano dei modelli vincenti perché sono due città estremamente polarizzate dove tu hai una parte che è benestante ed hanno bellissime cravate di Hermes maioni di cashmere lì inquinamento zero ma hai l'altro 80% che abita nelle periferie dove invece hanno un tema ambientale molto interessante ve lo dicevo che le case ci avrebbe dato soddisfazione però Ferrari se lei voleva intervenire lei voglio fare intanto abbiamo ancora dieci minuti non vi preoccupate noi siamo rapidi televisivi soprattutto a voi che magari vi annoiate sul palco voi vi annoiate sul palco lei scaroni un pochino sta io sono sempre preoccupato perché c'è il pubblico che si annoia poi i redatori che si annoiano c'è un casino fare il mio mestiere vuole parlare del Milan no 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 prego rapidamente no no non si preoccupi anche noi siamo soggetti a autorizzazioni ma il vantaggio vero di cui parlavo prima è legato al fatto che noi abbiamo delle aree che sono vicini alle reti di tradizione alta media bassa tensione che è un po' il discorso che facevo prima questo fa la differenza perché spesso la difficoltà principale è collegare un campo solare a una linea di ene o di terna che magari è a distanza lì attraversi delle aree dove oggettivamente l'avversione verso l'elettrodotto è maggiore rispetto a quella di un campo solare quindi le aree industriali dismesse e credo anche grazie al fatto che bene o male il cambiamento climatico sta cambiando le ore di disponibilità del sole possono essere i primi a essere sfruttati e utilizzati in funzione del costo del pannello oggi credo che siamo su 1 miliardo e 600 milioni di euro rapidamente lei ha fatto il piano industriale il piano industriale questo 1 miliardo e 6 quanto è in percentuale rispetto agli investimenti cioè quanto punta su questo noi abbiamo un piano industriale in 10 anni di 190 miliardi di euro di investimento come 190 ma sono numeri questi 190 miliardi è 190 miliardi noi abbiamo la rete ferroviaria italiana che da sola ne ha 110 abbiamo ANAS che ne ha 50 poi abbiamo il trasporto passeggeri su rotaie e su gomma che rinnova la flotta che sono 25 miliardi il resto va tra logistica non c'entra niente ma si riescono a spendere questi soldi perché 120 miliardi sono un bel pezzo del piso non è facile perché noi abbiamo una potenza di fuoco legata alla disponibilità anche delle risorse pubbliche che si deve confrontare con delle filiere che spesso sono in sofferenza che vuol dire mi faccia capire filiere tutto il mondo delle costruzioni oggi deve far fronte per esempio a una crescita della domanda esponenziale e si deve confrontare con problemi legati al costo dei materiali che quindi richiedono evidentemente degli adeguamenti si deve confrontare con la disponibilità di tecnici si parla nel nostro mondo di un gap cioè di un fabbisogno di tecnici e di ingegneri dell'ordine di qualche centinaia di migliaia quindi è chiaro che siamo in un momento di grande discontinuità perché dopo la pandemia dopo la guerra ma soprattutto dopo la pandemia sono partiti dei piani di investimento a livello nazionale molto importanti sulle infrastrutture il sistema adesso si deve adeguare perché non abbiamo ancora la potenza di fuoco pienamente adeguata quindi ci possono essere dei ritardi legati anche a questo Scaroni il panorama del gas e dell'elettricità ce l'ha fatto cioè dell'elettricità ce l'ha fatto però le voglio chiedere un consiglio tanto siamo tra amici se lei avesse oggi questa bacchetta magica di poter decidere la politica energetica del paese un pezzo l'ha fatto a lei un pezzo l'ha fatto a lei ma gliele do tutte insieme e gli do anche le scelte e su che cosa interverrebbe posto che io ho iniziato questa conferenza sostenendo che l'energia è ricchezza cioè il consumo di energia non è una cosa sono ben contento che lui consumerà di meno ma per far andare meglio i treni per far andare più puliti però li deve consumare qual è il su cosa dobbiamo puntare qualcuno dice facciamo il nucleare qualcuno dice facciamo più rinnovabili qualcuno dice consumiamo di meno cambiamo i nostri modelli mi viene da piangere di consumo lei che cosa pensa che sia? dunque mi faccia prima dire una cosa lei può dire quello che vuole dunque ogni volta che ci si mette a parlare di energia oppure di case sostenibili passiamo il tempo a parlare della burocrazia di quanto è lenta di troppe regole troppi vincoli allora io che ho abitato in tanti paesi al mondo sono arrivato a una posizione vedo tutto questo in modo un po' controverso perché considero noi italiani un popolo di furbacchioni che appena possiamo evitare una regola appena possiamo fare una cosa per i fatti nostri la facciamo con grande piacere come risultato ci diamo un sacco di regole per evitare ai furbacchioni di fare le cose e come risultato di tutte queste regole abbiamo una burocrazia che ci paralizza lo dico per dire è che la prima cosa dovremmo essere noi italiani un po' meno furbacchioni perché alla fine tutto questo si ritorce su di noi non mi viene in mente quando tu parli di case sostenibili sì ma me li vedo me lo vedo il costruttore meno serio di come sei tu fare delle cose vabbè quindi voglio dire ricordiamoci che le regole ce le diamo per evitare gli abusi di cui siamo capacissimi capacissimi allora detto tutto questo qualcosa possiamo fare noi beh io credo che dobbiamo fare tutto quello che è possibile per avere energia ne dobbiamo avere tanta ne dobbiamo avere tanta allora le rinnovabili facciamo tutto quello che possiamo con i vincoli di cui hanno già parlato altri useremo ancora i idrocarburi per molti anni io credo li useremo cioè li useremo perché ne avremo bisogno per almeno per i prossimi venti o trent'anni avremo ma ci sono per venti o trent'anni il club di Roma ce ne sono per i prossimi duecento anni ma cosa il gas ci sono riserve di gas per almeno duecento anni quindi non mancherà il gas il petrolio per cent'anni quindi quelli ci sono vogliamo usarli non vogliamo usarli vogliamo usarli il meno possibile naturalmente però ne abbiamo bisogno allora su questo mi sembra che quello che stiamo facendo e devo rendere omaggio a Claudio Descalzi in Eni è giocare la nostra posizione geografica che siamo questo ponte verso l'Africa e anche i rapporti che Eni ha costruito in 50 anni in Africa quindi sostituire questo gas liquido costoso il più possibile con gas via tubo molto meno costoso che viene dai paesi africani che abbiamo di fronte a noi tutto questo ci può consentire fammi capire bene è meglio attraverso il tubo perché ci costa di meno però ci vincola di più non è che sono paesi fenomenali cioè non è che in Algeria no fenomenali nel senso che affinano dunque però dunque è vero tutto questo allora il gas via tubo ha un costo più basso perché non deve essere liquefatto rigassificato e viene trasportato da un'infrastruttura che una volta fatta è lì no poi è vero che paesi come l'Algeria o la Libia forse anche domani l'Azerbaijan non sono esattamente la Svizzera no lo dico qui in omaggio a un altro amico cioè non è la Svizzera però questi paesi sono talmente dipendenti dalle entrate che hanno dal gas che qualunque regime qualunque cambiamento qualunque cosa succede in genere preserva questo settore che è vitale per tutti no cioè mentre noi stiamo parlando tanto per darvi un esempio la Libia che non è esattamente un paese tranquillissimo negli ultimi dodici anni continua a produrre gas per se stessa e anche un po' per l'esportazione quindi non abbiamo alternative questo è un terreno su cui l'Italia parlando dell'Italia ha una marcia in più no anche di fronte tante volte diciamo i tedeschi la Germania forte potente tutto vero ma la Germania non ha leni l'Italia ha leni no che non è merito mio non è nemmeno merito dei descalzi è merito di di 50 anni o 70 anni di storia e questo ci consente di mettere al nostro al servizio del nostro paese delle risorse che che i tedeschi non hanno e che noi invece ti faccio un'ultima domanda per poterti fare cadere alla fine però abbiamo rinunciato per sempre al gas a basso prezzo del Texas europeo la Russia è finito quel gas? Allora per sempre la parola per sempre faccio fatica a dirla ma se mi chiedi la mia opinione sicuramente per i prossimi 10 anni faccio fatica a immaginare tutto posto tutto ok tutto bene ci vogliamo tanto bene lo considero improbabile lo considero improbabile perché tutto questo passa attraverso il cambiamento delle persone e non sono sicuro che le nuove persone saranno molto meglio di quelle esistenti risisco in particolare alla Russia quindi voglio dire faccio fatica a immaginare che il prossimo presidente della Russia sia tipo Tony Blair faccio più mi sembra più facile che sia più tipo Putin io la vedo così grazie domande molto simili che ti riguardano perciò ti confronti sempre con Scaroni anche su questa cosa della Russia ma non soltanto per l'Italia perché voi fate trading e quindi esisterà ancora questo gas russo non è che da qualche parte dovrà andare ma guarda aggiungo un pezzo che se non ricordo male da presidente Eni Scaroni ha dovuto vivere uno dei problemi principali che oggi ci saranno in Europa con la Russia è che quando loro decideranno di riportare il gas in Europa il primo problema è che si troveranno tutta una serie di sanzioni che le società europee cioè di sanzioni di cause che le società europee faranno perché avere interrotte i contratti in maniera unilaterale comunque ha generato delle problematiche di miliardi di euro che andranno dritte dritte a Stoccolma io credo che prima di dieci anni la Russia avrà necessità di importare gas in Europa perché anche loro hanno un problema enorme di dove gli entrano i soldi si leggeva ieri che il PIR russo è sceso solo del 2% si è sceso del 2% perché i prezzi del gas erano 300 200 150 con i prezzi del gas e esportando verso l'Europa meno del 10% io credo che nel 2023 loro avranno dei seri problemi e tutto quello che si dice che importeranno verso la Cina verissimo ma insomma fare i pozzi di gas lì sono molto complicati hanno aumentato l'LNG tutta una serie di cose correttissime secondo me correttissimo è anche difficile dire il contrario quello che dice Toscaroni l'importante per l'Europa è diversificare perché un conto è se noi e poi l'Italia Eni e l'Italia può giocare un ruolo in maniera fondamentale a livello europeo perché è un hub e perché Eni è la società di gas più forte in Europa questo da sempre però se importiamo 10 miliardi dall'Algeria è diverso rispetto a livello europeo che se ne importiamo 150 dalla Russia cioè il problema è che l'Europa ha usato la Russia come 50% dell'importazione dalla Russia quindi se ne importassimo il 50% dall'Algeria dalla Libia dall'Egitto dall'Azerbaijan attraverso il TAP signori avremo a breve lo stesso tipo di problema un conto è importare 5% di qua 10% di là in quel modo si fa anche pressione o comunque il peso del gas americano potrebbe chi sono i trader più forti di energia dove sono i trader più forti e questi olandesi sono così cattivi sono dei pirati che stanno con l'uncino ma il trader fa il suo lavoro il trader parla di sostenibilità economica i trader più forti sono quelli che nessuno conosce sono vari tra figura Vitol Glencore ci sono delle opportunità e le vanno secondo me in maniera corretta a cogliere ma qualsiasi libro di economia spiega che lo speculatore fa un servizio al mercato perché poi cioè il speculatore vuole guadagnare signori non pensavo che guadagnare sia una cosa negativa però questo ora se parla sulla benzina gli speculatori sembra la stessa cosa no ma quelli poi non ci sono perché il ministero dell'ambiente io sono fissato il ministero dell'ambiente ha fatto una tabella e ha visto sì ci sarà qualche mandraffone però non è quello che è mi permetti di dire un flash si parlava del Pniechi 70.000 megawatt io cioè sinceramente io non dico le mie opinioni perché valgono molto poco ma mi baso su quello che si può leggere due giorni fa tre giorni fa c'era un interessantissimo articolo su Financial Times di Saudi Aramco e tu parlavi dei promessi sposi Agatha Christie non so segui soldi e trovi colpevole oggi Saudi Aramco è tornata a essere la prima società al mondo per capitalizzazione data sopra Apple si legge queste interviste loro credono che il petrolio il gas servirà per sempre servirà per sempre sempre che stanno facendo investimenti miliardari nel rendere sempre più disponibile sempre a più basso costo il a differenza di tutte le società occidentali Exxon Shell la stessa Eni che avendo molte pressioni di questo sostenibilità di rinnovabile dice no noi dobbiamo fare tra virgolette il meno possibile ricordiamoci sempre che la causa una delle cause dell'aumento dei prezzi nella primavera del 2021 del gas e poi di conseguenza di tutto il resto è stata legata al fatto che erano più di dieci anni che le major petrolifere facevano pochissimi investimenti in manutenzione di pozzi petroliferi e di gas aggiungerei una cosa non lo dico perché vi da un metro di giudizio dopo tutte le chiacchiere che abbiamo fatto dal 2011 a oggi sulle rinnovabili tutte le chiacchiere quest'anno 2023 è il record di consumo di petrolio nel mondo 102 milioni di barili al giorno allora no lo dico lo dico per dire che confrontiamo due fenomeni che hanno due dimensioni diverse le rinnovabili sono una cosa per il momento purtroppo una cosa piccola piccola per il momento noi stiamo consumando il nostro pianeta 102 milioni di barili di petrolio al giorno record storico bravo bravo io so che a questi della zuppa gli piace questa roba qua come a me però siamo in pochi facciamo un super applauso sul consumo del petrolio sto scherzando ferraris sto scherzando torchi è già si è arrabbiato direlli quanto investite quanto si investe qua in questo paese investite o no siamo già più o meno 250 milioni efficienza energetica di processo cer biometano questo voglio dire una cosa prima sul discorso di Aramco è come dire a uno che produce a un ristorante tutti quanti andano al ristorante è chiaro che se uno si concentra sulle rinnovabili per cercare di migliorare l'impatto non può ascoltare quelli che producono petrolio perché sennò diventa una roba infinita allora quello che dico io per fortuna non sono in trasmissione perché se fossi stato in trasmissione a quarta repubblica avrei dovuto fare buon viso cattivo gioco perché avrei invitato un ambientalista che mi avrebbe detto pazzo fra dieci anni siamo tutti morti se tu non la smetti di dire queste stupidaggini e soprattutto mi dicono pazzo stiamo consumando un sacco di petrolio perché è incentivato 41 miliardi Scaroni se da becchi di lei questa obiezione così mi dà una mano a me quando mi dicono moriamo tutti fra vent'anni no ma io quando dico 102 milioni di valori dico purtroppo non è che dico che sono tutto contento anche perché mica vendo petrolio dico soltanto forse io la ramco magari ti direi di vero sto soltanto dicendo che il percorso per arrivare è molto più lungo ci richiede molto tempo a meno che non ci siano delle innovazioni tecnologiche che non riesco a immaginare io ogni tanto faccio questo discorso pensate vedete questo mio cellulare eccola ha fatto di tutto era più forte no guardatelo di qua ma vi sembra normale che la prima azienda al mondo ha una batteria che io non arrivo stasera no ve lo dico per dire che la tecnologia delle batterie che questa qui gli ioni di litio è stata inventata nel 1978 siamo ancora lontanissimi da aver trovato quelle batterie essenziali per le rinnovabili perché il solare ha il piccolo difetto che di notte non c'è piccolo difetto quindi o io sono capace di stoccarlo con delle batterie efficienti oppure il solare è zoppo facciamolo ma è zoppo già l'eolico mi piace di più perché di notte c'è vento come di giorno non mi piace molto in Italia perché l'Italia è il paese meno ventoso del mondo ti prego che sta arrivando scarbi pazienza no ma no perché arriva le quattro scarbi ce la siamo cavata in cornet comunque dovremmo dire secondo me a Milan e Inter che la prossima volta possono giocare qua invece che andare fino a Piano Ferraris che dice? forse abbiamo qualche chance in più allora investimenti continuano in Italia vorrei fare la domanda anche a Ferrario una cosa specifica che nella tua attività quotidiana di assistenti e questi nuovi diciamo da punto di vista legale tu dici questa cosa qua me la dovete togliere dobbiamo risolverla ai siti o coppi prima cioè io parlo anche alle persone che ci ascoltano a casa cosa veramente ma allora ha detto bene benissimo prima dottor Scaoni e ci mancherebbe altro quando ha detto noi siamo anche maestri per metterci in testa delle leggi e alcune volte queste leggi però sono troppo ambiziose per quello che noi effettivamente siamo in grado di fare ma non è solo nell'energia che questo succede e in tanti ambiti delle infrastrutture mi riferisco anche al gasdotto c'è tutta la polemica della TAP che insomma siamo riusciti miracolosamente ad arrivare alla TAP anche col contributo anche di AXPO che era un soggetto azionista e quindi portatore eravate azionisti della TAP chi? no loro loro siete ancora azionisti della TAP ma quanto arriva la TAP scusami già che mi hai dato una cosa ma quanti milioni di metri cubi porta? 10 miliardi all'anno 10 miliardi ma si può un po' sbloccare o si può raddoppiare si può sdoppiare e questo vorrebbe dire veramente duplicare la sicurezza di approvvigionamento di gas quindi staccarsi ancora un po' più dalle dipendenze dov'è che ha funzionato? Ha funzionato quando la legge era chiara e questo vabbè è una banalità ma soprattutto quando la scelta è stata fatta a rango legislativo cioè quando tu sostanzialmente alla pubblica amministrazione gli hai dato il compito semplicemente di fare una scelta on off cioè c'è questo elemento sì mettiamo casellina si va avanti quindi sostanzialmente ha funzionato quando questi conflitti di vari elementi che devono essere tutelati anche il paesaggio deve tutelare ma non lo devi lasciare alla pubblica amministrazione questo lo devi portare al piano più alto e soprattutto devi sceglierti gli attori giusti allora perché in una legge fondamentale che conosceranno gli abetti ai lavori cioè nel 21 si è detto fate regioni un elenco di aree idonee dove mettere le aree rinnovabili benissimo allora premesso che non c'è ancora una regione che l'abbia fatto premesso che non c'è stato neanche però a livello ministeriale una concertazione da parte di questi tre ministeri che dovevano dare le linee guida alle regioni da seguire poverette queste non ce l'hanno ma nella scelta dei soggetti a cui demandare questi criteri si è fatto un errore perché si è stato scelto ministero dell'ambiente ministero della cultura e ministero della politica agricola ma scusate è stata eterna che ha in mano la rete del dispacciamento e della trasmissione e che ti sa dire lì c'è bisogno lì non c'è bisogno io ho bisogno del termo elettrico perché è molto più potente e può seguire un programma di emissione che è fulmineo e non l'ha invitato il ministero sviluppo economico non l'ha invitato ma scusate quindi per riassumere si è partiti da un punto di partenza dicendo dov'è che vi dispiace di meno che si faccia le rinnovabili scegliendo questi attori invece la scelta dovrà essere ditemi dove c'è più bisogno e poi io conseguentemente poi chiamerò anche loro a dirmi lì no forse a San Gimignano non mettiamo dell'eolico siamo tutti d'accordo però è inutile riempire delle aree che si prestano da un punto di vista ambientale di fotovoltaico e olico quello che deve essere se poi questi impianti servono a poco e mettono termo nella condizione di dover chiamare il termo elettrico a correggere perché quando c'è troppo diciamo alternarsi di potenza e di emissione devono chiamare le centrali di Simone che gli dicono beh guarda che tu devi andare e devi produrre ma io adesso ero in manutenzione senti stacca tutto adesso ti do il gettone e l'accensione attacchi il motore e vai sono centrali termoelettriche peraltro sono? sì ma perché sono le uniche che ce la possono dare lei oltre a tutto il casino della sostenibilità c'è il casino delle autorizzazioni a costruire ambientali eccetera però una cosa è poter costruire un palazzo una pausa e invece pensare urbanisticamente se tu vedi questo posto dove ne siamo c'è De Lucchi che ha fatto questa cosa qua ci sono i grattacieli ci sono quello rende la città forse più compatibile anche economicamente ma non ovunque si può fare una cosa di questo tipo quello le sto dicendo gli capita un posto a Milano ma non è che lei può pensare di fare cose simili in giro per l'Italia è una domanda allora io devo dire che ha capito cosa Paolo Scaroni è un grande ho la foto sul mio comodino di Scaroni e lo rispetto Scaroni è quella di un altro purtroppo però non sono d'accordo sul tema non sono d'accordo sul tema e beh la premessa era una cartazio credo che no oggi io non penso innanzitutto che ha detto è il terista infatti stavo dicendo io sono tifoso nel Napoli però non è così anche se fosse così non è che tutto il resto d'Italia deve pagare perché ci sono dei furbacchioni che svincolano le leggi e quindi dobbiamo avere un sovraccarico di leggi e io credo che i furbacchioni si trovano proprio a loro agio insieme di norme io se dovesse chiedere una cosa non chiederei niente altro che non ci sono norme in conflitto perché invece noi ci troviamo costantemente con delle interpretazioni normative che sono in conflitto l'una con l'altra che poi dopo crea il blocco e io credo che l'Italia sia il paese sia in Europa più indietro come rigenerazione urbana quindi dove c'è la più grande opportunità non c'è soltanto a Milano le ferrovie hanno lo scalofarini qui che sono 650.000 metri quadrati sono qua dietro e sono fermo noi stiamo sviluppando il progetto di Sesto il progetto del Trotto che sono migliaia di appartamenti ma se io penso alle aree di Napoli di Roma di tutta la parte tutti gli scali in Toscana c'è un'ampia area non è soltanto assolutamente c'è tanto io trovo un'assurdità per esempio su cui noi abbiamo fatto un'opposizione ma non è fregata a nessuno per esempio che questo PNRR non può fare le bonifiche noi abbiamo un PNRR che serve per rilanciare l'economia ma il vero problema di tutte le aree è che tu hai delle aree bonificate dove se va male ti prendi un procedimento ma che vuol dire non ho capito che vuol dire che vuol dire le bonifiche cioè che sotto c'è schifezze e lei è responsabile di quello che c'è sotto e non ci sono i mezzi finanziari per poterle bonificare il PNRR poteva allocare delle risorse a questo in Lombardia l'ho fatto soltanto per i siti orfani adesso se la Lombardia è la regione più dinamica d'Europa se i siti sono orfani ci sarà un motivo evidentemente che vuol dire i siti orfani i siti orfani sono dei siti abbandonati adesso mi dica lei se ha mai visto un sito orfano nel centro di Milano io non ne ho visto magari come cercatori d'oro quando cercare l'olio io li vado a cercare quando io non l'ho mai trovato va bene va bene va bene devo dire grazie veramente vieni qua presidente vieni l'amministratore delegato di IBM che ci fa un saluto anche te se vuoi aggiungere qualcosa guardi che qua c'è IBM che mi ha chiesto di chiederle esplicitamente io non sono responsabile perché quando io vado in treno da Roma a Milano lo sa chi le sta chiedendo quanti di voi sono venuti da Roma a Milano e la digitalizzazione prima ha dubitato che fossi in orario il treno adesso mi dice anche della connettività insomma ha fatto un bel benvenuto no ma le permetto di dire finalmente no ma questo è un punto importante insieme al tema dell'innovabile abbiamo lanciato un altro progetto che è il tema della connettività a bordo treno io sono fissato allora abbiamo voglio fare la zuppa in treno voi lo sapete quando sto in treno mi vedete sul suo treno con dietro la guardi se lo faccio a dire da loro sta funzionando un po' meglio però siccome non generiamo aspettative troppo alte cosa stiamo facendo ci stiamo muovendo su breve quindi 12-18 mesi sull'alta velocità che collega Milano con Roma e ovviamente Napoli e Torino abbiamo due tipi di interventi uno è creare la connettività e ristabilire la connettività anche in galleria e dare continuità e la seconda cosa non tutti i treni sono ovviamente predisposti per questo cioè frecciarossa 1000 lo è le edizioni precedenti non lo sono quindi certe volte prendete un frecciarossa dove magari funziona e non funziona da qua ai prossimi 6-12 mesi il collegamento Roma-Milano dovrebbe essere coperto con un livello 4-4 fate un super applauso per favore a Presidente perché questa lo fa per noi per noi però io credo che lo sviluppo più importante e l'abbiamo inserito nel contratto di programma nella rete è quello di dotare i 16.000 km di rete ferroviarie che noi abbiamo di fibra ottica perché noi abbiamo lungo i binari se ci fate caso ci sono delle canalette potremmo stendere rapidamente dalla fibra ottica fare un investimento per rilanciare il segnale ogni chilometro e avere una copertura wifi a bordo treno anche sui regionali questo è un progetto che abbiamo inserito nel piano che dovrebbe vedere la luce nell'arco di 7-8 anni perché è importante perché riteniamo che questo favorisca ulteriormente il trasporto dei passeggeri a bordo treno cioè possa muovere dall'auto al treno perché se si può lavorare evidentemente cambia lo spettacolo aggiungo anche un altro elemento diventa un'infrastruttura critica anche per il settore dell'agricoltura perché alla fine il treno passa in aree rurali dove i segnali e quindi può dare il segnale lineare si possono allacciare e sbacciare quindi su questo ci stiamo lavorando bene seriamente perfetto 2 miliardi di investimento apri e chiudo parente su questo hai sentito andata bene questa mattina con abbiamo inserciato su DBM il nostro amministratore delegato quindi voglio buongiorno a tutti complimenti complimenti Nicola e complimenti al panel un commento doveroso digitalizzazione innovazione tecnologica io credo rappresenti poi di fatto il minimo comune denominatore a tutte queste storie che sono state raccontate dai trasporti all'urbanistica ai settori critici del paese l'energia in primis perché di fatto si tratta di riuscire a portare maggiore efficienza maggiore produttività e quindi poi minori sprechi nell'esistente nel frattempo che le politiche del paese e le istituzioni lavorano chiaramente su un'indipendenza energetica a te bene grazie grazie a tutti quanti voi saluto tutti i nostri ospiti del panel noi ci vediamo alle 4 per chi ha prenotato con Vittorio Sgarbi vogliamo fare una foto? facciamo una foto l'ultima fatica qui vieni 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 ah vabbè mi metto in mezzo l'unico senza gravata